Quale Crash Bandicoot vorreste che io portassi sul canale? Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back o Crash Bandicoot Warped? Scrivetemelo sotto nei commenti! Il vincitore porterò l'intero walkthrough sul mio canale! Ciao a tutti e si arriva avanti con la storia! C'è una energia non naturale in te, non dovresti aiutare il caos? Ruffina, è una idea brutta, hai bisogno di un nuovo plan, la gente non piace il caos. No! Ruff, ho finalmente tracciato! You finally tracked me down! We should have... Have a... dobbiamo battere a fine fare 20.000 incredibil puntazzi datemi tetris però fanculo e incominciamo tetris però scena molto bene sono molto contento di ciò di questa scelta stilistica di incominciare con tetris donation perché altrimenti avrei spaccato tutto ovviamente qua andremo di tetris fanculo così da poter sollezzare molto tranquillamente molto velocemente la nostra avversaria così ce la leviamo dalle bale in una maniera velocissima sacchiarola perché non mi è caduto quello la non va bene così non va bene non va bene facciamo vedere questo los blues los xialos il zallo mettiamoli qua se mi venisse un viola no sarei anche molto contento se mi venisse un viola un marrano viola schifo ah ok devo di aver sbagliato invece non ho sbagliato lì se facciamo la swap combo vabbè questo facciamo cadere qua così almeno facciamo sta schifosa non siamo contro una schifosa vero sì mi sa di sì vorrei dire caponate sta lurida che a tetris si crede di poter fare qualcosa contro di me ma come ti permetti non ti devi permettere cara raffina ti dovrebbe chiamare raffina giusto perché non mi ricordassi molto bene allora questo lo metto qua così swap swing totale all clear dal che compugno è nelle più alte la signorina eh sì 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 è nelle molto più alte fai cadere al verde miseria a tetris mica tanto ma vedete questa qua come si deve anche permettere di non essere nelle più alte qua a tetris mamma ma io non lo so dovresti aver già perso ti dovresti essere già inchinata al king of tetris eh ecco scacchiarolla allora qua il blu qua lo verde qua c'è zallo mettiamolo qua mettiamo salire con il blu e mando via una cosa incredibilmente totale qua ho sbagliato che mamma mia non si sa ma anche no volendo non ho sbagliato più di tanto devo fare robe combo swap nooo non ce l'ho fatta dannazione per fin di rindina volevo fare la swap ah booo allora se mettiamo qua se mettiamo qua combo su combo che incredibilmente mandiamo via tutto e dobbiamo puntare a vincere su puglio puglio perché su puglio puglio è nelle più alte qua col verde il giallo lo mettiamo qua che almeno riusciamo a mandare via roba mi sono incappettato il giallo sono molto felice di ciò adesso lo mettiamo cadendo così il giallo lo devo mettere da là che sto a fa' così se mi basta zoom via ola sarei anche un attimino più felice io ne porca miseria anche perché siamo già arrivati ai 20.000 punti sai vorrei anche porre fine a questa battaglia e andare avanti perché il giorno che viene domani è un nuovo giorno e non è quello di oggi e via dicendo no io so le robe non so se le sapete anche voi ma io le so manda via tutto dobbiamo battere la col puglio non c'è niente da fare lei col puglio è nelle altissime sfere della ecco soprattutto quando faccio questi grandi errori azione schifosa questo facciamo così via ola non ce l'ho fatta uh dannato puglio che mi fa sempre sbagliare tutte le volte tra mega cazzarola beh a questo punto facciamo le combo a questo punto mi sa tanto che mi devo preparare un nuovo tetris perché qua altrimenti mettiamo ancora qua domani notte così questo è sbagliato con il blu con il giallo ci sta il verde una roba del genere partita infinita che non finirà mai cazzarola sì certo grazie mille ma che vuol dire ma perché ma perché ma ma stavo vincendo io fa un culo ma che vuol dire sì dobbiamo vincere qua devo mandare via robe perché a puglio ho perso ho perso non ci credo non ci credo fa un culo ce l'ho fatta e che balla i puntini da dietro raffina raffina puoi sentirmi? continua finalmente a presto a presto a presto a presto a presto a presto alla altruzione hai un che è una un amici hai un hai ci ci ti che hai che hai un problem on your own you can say that again but um is something wrong wow everything's spinning i think she's gonna faint no i'm not you need rest i'm i'm fine hey you can catch up with me until you later okay why don't you get a little shut eye first sig will you watch her no no i'm fine maybe i'll just get a little shut eye first okay sig good luck gringo mind your V's and Q's Nuovo stage unlockato esci va avanti! Dove arrivare al livello 24 in 30 secondi Tetris, 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 Basta costa e puio puio! Dannazione ne ho piena le pelotas! No questo lo mettiamo qua che mamma mia quanto mettiamo! Dato essendo anche più piccolo volendosi per la bobbavia quanto è grosso sto coso! Le! Dato non ci abbiamo zero tempo anche perché è già finito tutto cosino qua! Le! Rosso che mando via tutto non ce l'abbiamo fatta ma me ne spato le balle! Yes! Almeno una stella! Due? Mia! Sono pronto a tutto! E' come un test di matem... Continuo! Io! No! Io non vedo il tutto coso! Ehi! Ehi! C'è! 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 Sì? Sì? Pensavo sicuramente che questo sarebbe fatto. Hey! Chi ti chiede un Creeper? Wow! È in realtà venuto quando mi chiede! Sono Shezu, il dark mage. E mi chiede che tu non pari di chiedere un Creeper. Mi preferisco che tu chiedere il mio nome quando siamo insieme. Um... È... Non è sicuro che sei aiutare il tuo caso molto. Ehi! Tu ti chiede un mio honore. Non mi prendo così. Ci sono meno chiedere un modo di chiedere il mio nome. Sì? 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 Che credi? Mi aspettate a rispondere a Creeper come non è un problema? Il tempo è venuto per me riuscire la mia reputazione. Per assaltare questa ragazza! Ma perché devo fare puio io, cazzo? Basta con Puglio! Poniamo fine a Puglio! Ah! Quelle con i cosi così! Ma vaffanculo però! Ma quindi io devo mandare via vicini? Esatto! Devo mandare via vicini! Ah! In pratica questi qua, se si mandano via delle cose vicino a quel quadrato là... No! Sbagliato! Vicino a quel quadrato là... Da un malus o un bonus. Eh... Rispettivamente... Ci sono dei malus che ovviamente vanno al nemico e dei bonus che ovviamente me li pippo io. Tipo, avete visto adesso che ho preso quella specie di lampadina e quella lampadina ha secato la sua visione per un pelo per uno poco di tempo. Sì però, mi date dei colori buoni! Tipo, perfetto! A cascata! Adesso lui non può girare i pezzi! Infatti non so bene i cosi di Puglio perché sinceramente questa modalità l'ho giocata soltanto con Tetris, quindi non so bene diciamo le cose che succedono. No! No! Non sbagliavo! Però posso fare così! No! Via, via, via! Perché mi serve un giallo! C'è un verde! Dettemi un verde! Va bene anche un giallo! Uh! Adesso un rosso... Adesso lo metto qua... Adesso lo metto qua... No! Vaffanculo! Le... Questo rosso qua... Il blu mette via che butta via tutto! Le grandi combo! Così! Tutto qua! Benissimo col verde! Mamma mia! No! Perché non ci sono arrivato? Mi serve un blu! Mi serve un blu! Il mio mondo per un blu! Attalato è a tempo! No! In vantaggio è lui! Lo devo battere! No! Ho sbagliato! Le... Le grandi combo! Cioè, non so chi abbia mai visto delle combo! In sta roba che roba... Non lo so! Sai che ci tocca rifarlo! Cazzo! Scezno da merda! Fanculo! Rifaccio! Yes! Ho vinto! Ti sta bene! Ti sta bene! Madremmo con la spada tutta storta! Non sei solo quella di storto! Adesso! Now che puoi... Puoi aiutarmi? Continuo! ... 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 Cosa? Poi nella partita precedente stavo vincendo con Puglio! Puglio! Quindi diciamo che c'è qualcosa che non quadra! Non va bene le robe del genere! ... 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 altro tetris questo qua questo qua fammi giù e posizionati che ti spacco la feca l'ha sparito fanculo porco demonio quando spariscono le robe guarda io non so spaccherei tutto 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 ma come ti per no perché una roba del genere poi subito così senza mezzi termini affanculo domingue lo metto questo e questo domingue lo metto cacchio però non ho fatto tetris e non affanculo ma perché mi è sorpreso che tutte le volte che io devo fare una registrazione del puio puio quando farlo faccio le figure del merda avevo iniziato così bene questa serie e mo continua a perdere dopo perdere dopo perdere affanculo questo puio che ma già scartavettrato le balle in una maniera un bel java bless vediamo col giallo ma mi serverebbe un altro via o la top lo metto qua in viola sinceramente adesso non mi serve grazie mille no soccola perché mi fai questo cosa ti ho fatto di male oh e va bene e va bene ok ma io la tua punizione non finisce adesso ricominciamo again and again and again and again and again